un fiume granata anche se la manifestazione green per antonomasi aggiunta al suo trentesimo compleanno mantiene ferma i suoi principi ispiratori legati al frate di assisi facendo sfilare per le strade cittadina circa 1500 ciclisti una giornata particolare che ha riproposto la pedalata in bicicletta con bambini appassionati famiglie atleti sportivi di ogni età organizzata dall'associazione amici del sacro cuore con il sostegno dell'amministrazione comunale e di tanti sostenitori che la rendano possibile con il loro contributo siamo arrivati alla trentesima edizione di pedalando per la città c'è qui insieme a me fra Vittorio il grande presidente e organizzatore della questa pedalata un ringraziamento a tutta la città di salerno per aver partecipato a questa grande iniziativa e gli amici del sacro cuore di salerno sono sempre presenti insieme a loro e agli sponsor che ci danno una mano attenzione ragazzi